oggi cerco di mostrarvi in tutto suo splendore la nuova palette di mesauda eccola qui la archetipe scusate se già la metto aperta ma fa un riflesso ovviamente la vedete non so come girarla eccola qui appena appena arrivata quindi intatta e andiamo a provarla abbiamo degli opachi dei sembrano shimmer dei glitter ma andiamo a vederla tutta cerco di fare un po di swatch partiamo facciamo così andiamo così essence due questo è aurora già mi piace il nome come morbido e come bello e clay bellissimo un po polveroso ma bellissimo ma che belli fortina e andiamo avanti altra fila sono curiosa di questi sono morbidissimi sembra quasi cremoso questo e poi c'è l'opacco marrone ok wow 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 opaco wow poi mi allontano facciamo l'ultima fila poi ma lontano per farvele vedere bene ultima fila attenzione perché questo qui vedete che è morbidissimo quasi cremoso ma andiamo con questo ok 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 aspettate che mi pulisco un attimo e mi avvicino così ve la faccio vedere bene allora questa è la palette e questi sono i colori cosa mi dite per me è davvero molto molto bella molto molto bella è davvero molto bella